Sono arrivato, era la mia prima esperienza in Europa. Ho fatto due anni alla grande, praticamente vincendo due lighe, la Coppa dei Campioni. È male che non è più con Ronaldinho insieme. Sì, la moglie! Banda! È vero quello, lui ti fa sempre per si muore. Brava, grazie. Ma la prima volta che tu mi hai chiamato per lavorare, lui non mi ha mai lasciato. Mi hai detto, tu non parli bene, non puoi fare questa figura di lavorare senza parlarlo bene. Mi ha mandato all'università con tre piccoli, posso andare all'università? No, no. Puoi parlare benissimo. Sì, sì, perché no? Puoi andare. Sono litigato qui perché sono fatti. E volevo chiedere che abbiamo cercato solo l'Inter, di Faina mi ha cercato un'altra cosa. Sono pochissimi i cacciatori che hanno stato, che hanno giocato in Barcellona e in Milano. Tu hai la fortuna di aver giocato in due grandissime squadre, la meglio di Spagna e la meglio d'Italia, la che più mi piace. Mi permetto la Barcellona è la migliore.